Ci troviamo assolutamente di fronte a un sistema. Intanto faccio questa premessa. Quando ci siamo trovati di fronte, io e Totti, in campagna elettorale, io avevo a disposizione per la mia campagna elettorale 50.000 euro in gran parte messi da me. Totti aveva almeno 10 volte tanto, se non 20. E questo, secondo me, ha fatto sì che ci fosse un confronto assolutamente ad armi impari. Io credo, poi vedendo anche da dove venivano questi soldi, questa inchiesta lo mostra in modo definitivo, allora veramente io credo che si possa parlare anche di un furto di democrazia. Perché veramente non si era in condizioni, i soldi, i finanziamenti, questi finanziamenti hanno falsato completamente il confronto elettorale. Ma a me non interessa più quella vicenda elettorale. Appena mi sono seduto in Consiglio regionale da tre anni, in modo all'inizio piuttosto solitario, devo dire la verità, ho fatto questa battaglia.